Siamo con Alba Di Silvestro, quarta nella gara individuale, prima però in quella della categoria squadra. Ancora una grande prestazione per te? Beh sicuramente sì, forse è la gara dove sono andata meglio in tutto l'anno comunque. Quindi sono contenta anche perché specialmente a fine stagione così, anche l'altra settimana, cominciavo ad essere davvero stanca e quasi stufa di essere sugli sci. Sì, invece diciamo che così ho trovato anche un po' di voglia, oggi stavo bene, ci ho creduto fino alla fine perché comunque ero quarta, però le vedevo lì davanti e alla fine non erano così distanti. Però io ce l'ho messa tutta, più di così non ce la potevo fare, quindi ci proverò la prossima volta o al massimo il prossimo anno. Però diciamo che sei sempre la migliore della tua categoria, hai fatto un grandissimo mondiale, insomma per te è una bellissima stagione. Sì, fino adesso sì, poi tutti dicono che ormai la stagione è finita, però alla fine ci sono ancora tanti appuntamenti importanti, quindi per adesso sono contenta, ma per fare il punto aspettiamo che sia finito tutto quanto. Katia Tomatis che è un po' il leader della squadra, la più esperta della squadra famiglia, vede in te un grande futuro. Beh allora sono contenta che lei abbia tutta questa video c'è in me, spero di non deluderla allora.